Musica Lei cosa ne pensa? È sempre un appuntamento, noi è già il terzo che facciamo e ci troviamo sempre bene. Come sta andando questa serata il giro risotti? Perfettamente come tutte le altre, risotti sempre buonissimi, adesso attendiamo il proseguo ma attenzione non esagerate perché arrivare in fondo è veramente difficile. Musica